Passa con la maggioranza che vota compatta in Consiglio Comunale la delibera illustrata dal Vice Sindaco Raffaele Daniele sulla riscossione coattiva di quelle somme, bollette e canoni che gli utenti del progetto case non hanno mai pagato. Parliamo di un buco che si aggira attorno ai 15 milioni di euro ma forse anche 20. È scontro però tra maggioranza e opposizione. C'è un accertamento da parte della Corte dei Conti e della Finanza a tal riguardo partito da una relazione della Commissione Garanzie e Controllo che ha fatto muovere così la Corte dei Conti. Il Comune ha preparato una delibera che è una sorta di tutela, un atto che per il Vice Sindaco va a salvaguardare i conti dell'ente che devono essere in ordine. Tecnicamente è una società dell'Agenzia delle Entrate che riscuote in base ai nominativi dati dal Comune. Daniele ha ribadito che nei confronti delle fasce debole che non possono pagare ci saranno dei sostegni. L'assessore al sociale Bignotti ha illustrato un emendamento del Sindaco. Problemi analoghi ci sono stati con il pagamento della riflessione scolastica oltre 2.000 amorosi e non delle fasce deboli che già non pagano la mensa. L'emendamento va in questa direzione per scongiurare che ci rimettano bambine fasce deboli. La discussione è stata fitta. Il consigliere De Santis, che spesso si è occupato di questa faccenda, parla di un atto frettoloso quando in passato c'era un apposito ufficio che oggi è rimasto invece solo con due unità. Un atto difensivo per lui e non produttivo. Silvelli della Lega ha insistito sul fatto che loro mettono le pezze a colori ai danni della precedente amministrazione. Il problema è pure che le bollette non arrivano. Alcuni solleciti sono arrivati nel 2020. Il consigliere Masciocco ha invitato il Comune ad usare il SED, il servizio di elaborazione dati, per inviare bollette e dare una mano e ha richiamato i ritardi dell'amministrazione, con De Santis della Lega che invece ha rimandato al mittente le accuse dicendo che la vecchia amministrazione è atteso nove anni, loro solo qualche mese per la delibera a causa del covid. Scambio di accuse reciproche poi tra il consigliere De Matteis e Palumbo. De Matteis ha accusato senza mezzi termini l'amministrazione sciolente di questa catastrofe. Paolo Romano di Italia Viva ha presentato un emendamento bocciato mentre è passato quello del sindaco. Alla fine, prima delle dichiarazioni di voto, il vice sindaco ha fatto un duro intervento parlando del passato di peccato originale che è stato quello per lui di mettere il nome del Comune sulle bollette e non degli utenti di banca sistema e transazioni da lui giudicate e dubbie. Era ora però che il Comune ci mettesse mano a questa situazione per Daniele.